Sono onorata e consapevole dell'incarico che mi è stato affidato, lo affronto con grande umiltà e determinazione. So che per ricostruire quei territori bisogna ricostruire case, attività produttive e scuole, ma anche tanto le prospettive di vita e di lavoro delle popolazioni. Per questo sarò nelle zone del terremoto per molto tempo, molto spesso, facendo di tutto per essere utile alla ricostruzione. Lei intende dimettersi da parlamentare considerato l'incompatibilità della carica di deputato in base alla legge del 60 e del 53? No, perché non c'è nessuna incompatibilità. Grazie.